Primi movimenti di mercato del Campobasso, i primi frutti della collaborazione tecnica con il Benevento. Dai giallorossi giungeranno cinque giovanissimi di Belle Speranze, calciatori che in D possono fare la differenza. Il colpo a sensazione è rappresentato da Alessio Donnarumma, classe 1998, centrocampista dai piedi buoni, lo scorso anno otto partite in Lega Pro con la Vibonese. E' un under invece Francesco Rillo, classe 2000, Beneventano di origine, terzino sinistro, all'occorrenza ala d'attacco. Antonio Santarpia, di professione fa invece l'attaccante, classe 2000, di Castellammare di Stabbia, elemento duttile che deve migliorare però in zona gol. Dovrà mantenere inviolata la porta russo-blu invece Gianluca Volzone, portierino, classe 2000, in prestito lo scorso anno ad Altamura, dove ha iniziato come dodicesimo imponendosi con il trascorrere delle domeniche. Infine Arturo Onda, il più giovane della cinquina, classe 2001, terzino destro, napoletano con Bovienzo nella primavera del Benevento. Grazie.